bella a tutti ragazzi qui è Yoko che vi parla sfortunatamente per voi oggi sarò da solo a condurre questa seconda premiazione del coso della base of cut ma insomma allora per tutti quelli di voi che hanno commentato hanno messo mi piace per quelli che sono iscritti e vabbè ho preso tutti quanti tipo quelli un commento per ciascuno ovviamente c'è stato chi ha commentato due volte esempio qua mister silber sei proprio un froncio e ho stavolato 60 persone che potrebbero vincere questo fottutissimo premio di merda allora lo di tamburi grazie numero 20 20 tossico 98 proprio nome di merda congratulazioni hai vinto tossico se proprio tossico come cazzo è contro F tossico 98 a congratulazioni tossico hai vinto siete grandi ragazzi camp forti ovviamente comunque tornando a noi hai vinto congratulazioni a breve ti manderò il messaggio con il codice da pay safe card spero che non ve la siete presa per non aver vinto sfigati e comunque questo non sarà comunque il nostro ultimo giveaway il prossimo magari che ne so commentate scrivete qualcosa e volete qualche gioco di 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 steam qualche altra minchiata non solo nx dai non esiste solo combat al mondo e comunque vi invito a mettere mi piace comunque a seguire la nostra pagina di facebook se non vi va proprio da andare a seguire la pagina di youtube che qua mettiamo i video e le altre cose è tutto comunque per oggi è tutto vi saluto a al prossimo giveaway e o alla prossima recensione ciao merda ciao